via è iniziato il video commento di youtube e ciao youtube dice lì del 96 allora ragazzi adesso 3, 2, 1 via voi dite che cosa via? via a parlare male della Juve in che modo? molto semplice ma il Cagliari è scarso il Cagliari si è scansato Di Francesco è Juventino la Juve in casa è facile vincere il Cagliari aveva il sole negli occhi eccetera eccetera io onestamente ho una cosa che si chiama rispetto dell'avversario che ultimamente manca quindi quando la Juve o il Milan pareggiano in casa col Verona fan cagare invece secondo me il Verona che gioca bene e così via per dirne una quindi altre situazioni di altre squadre che hanno perso in casa con un sossuolo a caso per dire quindi ma non per prendere in giro il Napoli per dire che nel calcio attuale non ci sono squadre scarse io vedo la formazione del Cagliari ho visto un Gioo Pedro che comunque ha fatto una sua partita Simeone che è comunque un giocatore pericoloso ho visto comunque Rog, Unas, giocatore del Napoli ho visto Valuchievic che è un buon difensore centrale Klappaz i due terzini e c'era sempre Trippaldi non mi è piaciuto tre piedi come cacchio si chiamava quello lì quello non mi è piaciuto però per dire secondo me il Cagliari è una buona squadretta allora che cosa è successo? Che la Juventus ha giocato bene si può dire si può dire si può dire si può dire lo dico sotto voce stasera abbiamo giocato bene però perché non si può dire quando io ho giocato allora qual è il punto? ovviamente il fenomeno ci fa due reti vabbè quella era facile ed era anche prevedibile però diciamo che in generale secondo me la situazione è stata semplicemente questa nel primo tempo una Juventus che voleva vincere nel secondo tempo una Juventus che voleva controllare controllare partiamo dal secondo tempo perché è più interessante secondo me il controllo è quello che non riusciva mai la Juve di Sarri che andava in vantaggio e veniva recuperata e quindi ci sta e un controllo non significa chiudersi dietro a mantenere la concentrazione e fare il catenaccio all'Allegri il controllo è quando tu quando puoi fare il contropiede lo fai se però parte un contropiede ma vedi che comunque i difensori stanno recuperando e sta vengendo 2 a 0 ti fermi e la dai indietro e alleggerisci la pressione fai respirare la difesa fai riposare i difensori è successo questo e mi è piaciuto e poi comunque nel secondo tempo qualche contropiede qualche tiro l'abbiamo anche fatto poi parliamo dei singoli parlando dei tiri per quanto riguarda invece il primo tempo ragazzi qui è strepitoso io penso che ha giocato veramente bene e me lo dico anche ad alta voce grazie mille per i followers Laura Laura oh mio dio questa non ha capito che sta rischiando comunque il canale di perverti però ciao Lara comunque scusa devo conoscere sto in pieno video commento ma devo conoscere Laura torniamo al video commento cazzarò allora torniamo a noi che cosa succede ho notato una cosa principalmente negli schemi fateci caso se mai voleste rivedere il primo tempo le azioni Ronaldo partiva dalla linea dei centrocampisti molto ma molto dietro cioè il punto è questo quando Morata mi gioca spara la porta lui cerca di darla di nuovo a scaricare sul centrocampista che di prima la dà a Ronaldo che può puntare la porta quello che vuol dire che molto spesso la Juve di Pillo riesce a avere i due attaccanti di cui uno spara la porta per forza che è quello lì a cui i difensori centrali e avversari fanno riferimento e un altro che si sgancia e riesce a fare una cosa che nel calcio attuale moderno Klopp lo insegna soprattutto è fondamentale poter puntare la porta e non giocare spalle alla porta che non te ne fai niente puoi anche avere Ronaldo Messi Salah Mbappé ma se giocano spalle alla porta non faranno mai nulla l'obiettivo è puntare la porta la Juve di Pillo riesce a puntare la porta a volte perché riesce a utilizzare vari schemi quello lì di Ronaldo che ha puntato la porta varie volte è stato fondamentale a volte perché noi saltiamo l'uomo a volte perché riusciamo semplicemente con una buona triangolazione un buon disimpegno in difesa ah giustamente anche stasera la traversa ricordiamoci la traversa anche stasera perché per l'amor di Dio dovessimo finire senza traversa veniamo ai singoli allora Buffon senza voto non ha fatto praticamente nulla se non qualche più più con i piedi che con le mani un delict mamma mia delict che è partita ragazzi che ha fatto un primo tempo dopo quattro mesi che non si vedeva ma come dicevo nell'intervallo il delict ha potuto giocare in stile Ajax cioè la Juve in attacco è lui che doveva soprattutto intervenire e bloccare immediatamente la rivartesa quindi si vedeva che stava proprio in una partita tipica tattica che piace a lui De Miral molto bene rispetto soprattutto quando nel secondo tempo ha fatto un'azione in avanti rispetto a quella con il Barcellona che ci ha provato e si è fatto Speller almeno stasera è andata bene comunque buon De Miral anche lui onestamente diciamo così Bonucci e Chiellini non si sono per nulla rimpianti qui partiranno le critiche perché Chiellini è vecchio e Bonucci è scarso ok fate voi dopodiché Danilo ancora buona partita non proprio eccezionale come le ultime perché Danilo veramente uno dei migliori in campo era in alcuni casi stasera peccato anche l'ammunizione che si è beccato dall'altra parte buona partita anche di quadrato come al solito un saluto alla piattaforma che si può nominare sono il Twitch bravissimo dopodiché andiamo a centrocampo Rabiot a me piace dopodiché secondo me Rabiot siamo sciote a me Rabiot piace buonissima partita comunque di Arthur in generale peccato anche lui per l'ammunizione alle minere abbiamo preso una maniera di ammunizioni tutto nello stesso momento non ho capito che cacca non ho combinato e infatti se vi dico la vita gioca bene mi banno non ho ragione con l'Atlante comunque l'attacco allora Kuluseschi finalmente ha giocato come sapeva giocare all'inizio campionato prepotenza fisico tecnica non ha sbagliato passaggi facili bravo 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 lo so che state tutti quanti aspettando che io dica quel nome Ronaldo ha fatto la doppietta bravissimo ottima partita anche nel secondo tempo anche fino alla fine tornava indietro a alleggerire la squadra a farla ripartire Morata un'altra ottima prestazione di Morata nel secondo tempo ha fatto un'azione stupenda sulla destra che poi Ronaldo ha ciccato però mamma mia che azione che ha fatto ormai Morata arriviamo a lui Federico Bernardeschi ragazzi non si può dire che è il migliore in campo ma non azzechiamo non esageriamo così però possiamo dire che ha fatto una buona partita dopo la blasfemia che la Juve gioca bene Bernardeschi ha fatto una buona partita tra un po' arriverà una grandinata oppure verrà qualcuno a picchiarmi non lo so però io onestamente oggettivamente devo dire che ha fatto una buona partita il gol annullato nel primo tempo di poco aveva tirato bene un'altra azione buona che poi lì purtroppo di poco non è riuscito a inquadrare la porta nel secondo tempo ad esempio ragazzi ha giocato bene cazzo non lo devo giustificare perché Bernardeschi gioca bene gioca bene punto ha fatto buoni cross oddio quelli forse non tanto però comunque si è fatto vedere ha provato a dribbare l'uomo quando poteva ha cercato di metterla al centro allora non sto dicendo Bernardeschi è meglio di Salah cioè non fraintendetemi però rispetto a Bernardeschi visto le ultime volte che veramente era un pezzo da prendere e buttare fuori nel bidone dell'umido è stato un giocatore di calcio stasera onestamente dopodiché i cambi dai è bello rivedere Alexandro speriamo che torni in fretta in forma è stato bello rivedere soprattutto Chiesa peccato che però non ha avuto occasioni importanti dopodiché McKennie ha fatto una chiusura su quell'azione dove Unass ha avuto una botta sui testicoli è rimasto a terra ma praticamente ha fatto una chiusura riscivolata stupenda McKennie importante anche in zona d'attacco anche se però qui dobbiamo sempre fare tutto relativo al Cagliari quello che non mi ha per nulla convinto vabbè Bentancur pure entrato senza voto quello non mi ha convinto è Di Bala io continuo a dire come lo dico anche qui su YouTube secondo me la fidanzata lo sta prosciugando non lo so ma in testa una cosa sola Di Bala è incredibile ragazzi ha ciccato ecco una buona azione di Bernardeschi la mette al centro Di Bala arriva bello sul sinistro il pallone credo debba ancora scendere in questo momento non riesco veramente a capire Di Bala dopo aveva fatto una buona azione un buon sinistro a rientrare magari rientrare magari riusciva a fare una cosa carina e invece purtroppo l'è stato rimparato dal difensore ovviamente sì bravo LDL speriamo si riprenda bravo Ciocco Di Bala uno di noi io adoro il mio Di Balino sia ben chiaro quando avevo detto Kuluseschi non mi è piaciuto ma non è che lo dicevo per fare il tifoso via calcio in culo no io mi piace Kuluseschi ho seguito il Parma apposta perché mi piace Kuluseschi quindi per l'amor di Dio spero che gioca bene infatti stasera è tornato Kuluseschi cioè capito non è che io punto i giocatori li odio e non le voglio vedere la gente che va da Bernardeschi stasera non dirà mai che ha giocato bene dirà sempre fa schifo Bernardeschi così quindi io sono oggettivo io adoro Di Bala però penso che sia in un momento in cui non riesce o è una questione del contratto mentale la ragazza che lo sta spompando non lo so non volevo dire spompando perché è un po' ambiguo diciamo che lo sta mi sta facendo molte molte cose lo sta distraendo lo sta distraendo c'è anche la volontà della D quella mi sa che è a F però va bene lo stesso comunque non si sente al centro del progetto non lo so non lo so come fanno a sentirsi al centro del progetto in una Juve così dove in fondo ha bisogno anche di lui secondo me non credo non credo che poi non si sente al centro del progetto però sai sbagliare i tiri facili sbagliare i passaggi all'ultimo c'è stato un bel contropiede di esterno tenso la deve allargare per Ronaldo per Bernardeschi la palla finisce facile facile rimessa dal fondo non lo so vediamo un attimino si infatti chi ho di giocatori o sono stupidi praticamente i giocatori vanno supportati a meno che non accade come Chedira per dire Chedira io lo stimo come calciatore grandissima serietà soprattutto però non aver accettato la rescissione del contratto come ha fatto Iguain restare qui a cuccarsi lo stipendio poteva farlo anche Iguain che dirà preferito di no e oggi su Twitter ha anche twittato lui che fa la foto con i compagni ma a cagare ti stai rubando 5-6 milioni al mese senza fare nulla io continuo allora lì in quel caso è un'altra storia capito ma quando sono giocatore della squadra vanno sempre supportati è inutile c'è poco da fare comunque facciamo alla fine i complimenti a Pirlo per come ha vinto questa partita come direbbe anche Allegri vincere non è mai facile vincere non è mai la regolarità è sempre un'eccezione e noi vincenti lo sappiamo bene bene ragazzi che avrei fatto io come domanda di boop up che avresti fatto tu beh io cosa avrei fatto ce l'avrei provato con Diletta Leotta mamma mia quanto cazzo è buona ciao Diletta mamma mia non posso inquadrarla però mamma mia ragazzi stasera c'è una minicunna che è una roba comunque cosa avrei fatto io ho anche risposto a questa domanda buonanotte a tutti ragazzi vi raccomando fate i bravi vi auguro a tutti una bellissima domenica ciao 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 ciao